Ciao ragazzi, di nuovo insieme, come sempre vi invito per prima cosa a dare un'occhiata al mio sito www.gorsardi.com dove potete trovare centinaia di lezioni gratuite e anche molti libri raccolte, trascrizioni, corsi che ho fatto, pubblicato. Quindi dateci un occhio e oggi vado a cerco di accontentare una richiesta di una persona che mi segue da moltissimo, Kelly, che ahimè, purtroppo per me è inglese o americano, non ricordo, quindi parla giustamente madrelingua e invece il mio inglese, come sa, è pessimo, quindi fare una lezione inglese non mi sembra a caso, però cercherò di metterti i sottotitoli. Quindi si parla di Ghost Notice, perché mi ha chiesto un approfondimento di questo argomento, perché abbia delle difficoltà nell'esecuzione di questa tecnica. Io ho già fatto delle lezioni mesi fa, l'anno scorso, però vado volentieri ad approfondire un po' l'argomento cercando di ripartire da concetti base di questa tecnica e per fare ciò io consiglio come primo esercizio di scordarsi un attimo della mano sinistra, left hand, e concentrarsi sulla destra, quindi tenere stoppate le corde e iniziare a fare le Ghost. Io, come sapete, come ho già spiegato nelle lezioni precedenti, come tecnica principale, come posizione principale per la mano destra utilizzo quella vicino al ponte, al bridge. Però nulla vieta di fare gli stessi esercizi dove vi torna più comodo. Quindi, primi esercizi, fare il Ghost molto lentamente, con le note, con le corde appunto stoppate, col metronomo a velocità ridotta, poi aumentare piano piano, gradualmente, ad esempio, quattro Ghost per corda, quattro sul Mi, quattro sul La, quattro sul Re, quattro sul Sol, torno indietro. Altrimenti, terzina, ad esempio, una terzina per corda. Oppure una Ghost per corda, quindi Potete inventarvi i vostri esercizi, che è sempre la cosa migliore, poi, alla fine, prendendo un gran rispunto. Quando inseriamo, poi, le note, quindi, a mano sinistra, prendiamo, ad esempio, un Si bemolle, possiamo fare, con una nota sola, ad esempio, ottavi, quindi se metronomo, Ta, 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 ta. Posso fare una nota e una Ghost, ad esempio. Oppure la prima Ghost, la seconda nota. Oppure due note e due Ghost. Tre note e una Ghost. Oppure anche l'inverso, tre Ghost e una nota. Due Ghost e due note. Due Ghost, una nota e una Ghost. Eh, scusa. Anche qui si può avere infinite possibilità. Altro consiglio, quello di fare le scale, molto nettamente. Oppure anche esercizi classici, uno, due, tre, quattro, quindi un dito per tasto. Però fare, ad esempio, una nota e una Ghost, quindi. Pure le scale, per esempio, Si bemolle maggiore. L'arpeggi. Quindi, anche qui, le possibilità sono infinite. Un altro consiglio che volevo darvi oggi è quello di fare attenzione anche a quale corda su quale corda si devo la Ghost. Vi faccio un esempio. Facciamo un semplicissimo groove, una linea di basso semplicissima in Mi, per esempio. Ecco. lentamente, vedete. Quindi sono tutti sedicesimi. però con le Ghost, quindi Mi Ghost, Re, Ghost. Sembro fatto così. La, Sol diesis, Fa diesis, Fa, Mi. Ecco, prendiamo solo la prima nota e la prima Ghost. Io posso suonarla sullo stesso, diciamo, tasto, sulla stessa corda di dove suono la nota, quindi Mi. Ma posso anche suonare la Ghost sulla corda sotto, ad esempio, quindi sul Re. E mi cambierà sia il suono, sentite, e sia anche può essere un'opzione in più per l'esecuzione di un groove magari un po' più complicato. A volte scegliere una corda diversa per fare la Ghost può aiutarci, può semplificare l'esercizio. Quindi questo è un altro consiglio che vi do. Primaiamo un altro groove che andiamo. sentite la differenza se io facessi tutto in sedicesimi senza le Ghost se ci inserisco piano piano le Ghost faccio lento a velocità più elevata sentite la differenza quindi i Ghost sono fondamentali però vi consiglio di creare semplicissimi pattern semplicissimi groove e inserire piano piano qualche ti amo conto che avete inventato questa linea poi posso inserirci le Ghost piano piano quindi invece di fare non mi ricordo più cosa ho fatto però più o meno avete capito questi sono solo alcuni esempi qui ci vorrebbero almeno una decina di lezioni per dire tutto quello che vorrei però per oggi mi fermo qui che credo Kelly parlo a te ma parlo a tutti quelli che mi guardano credo che già fin qui gli esercizi da fare siano moltissimi ovviamente li scrivo tutti e trovate tutto nel pdf allegato e in più farò altre lezioni magari dedicate all'argomento e come creare linee di basso efficaci inserendo le Ghost ovviamente il funk è il genere che si presta meglio ma io ad esempio le uslizzo quasi tutti quasi ovunque quasi tutti i brani che sono mi viene proprio naturale quindi ti ringrazio per la richiesta che per me sono sempre motivazioni e anche idee nuove per le lezioni invito tutti voi a fare altrettanto se avete se volete approfondimenti su qualche tecnica sull'armonia sull'improvvisazione sulla lettura su tutto basta lasciare un messaggio io poi piano piano le faccio tutte ragazzi per oggi per oggi è tutto vi aspetto poi alla prossima lezione e come sempre se vi piace questo tipo di lezioni se le trovate interessanti e utili mettetemi un mi piace e magari anche condividete che mi aiutate nel mio piccolo a crescere un pochino grazie a tutti buona serata e al prossimo video